L'inverno è ormai qui alle porte, molte mamme sono già alle prese con le prime influenze, tutte le mamme sono già alle prese con i propri pediatri per capire come venire fuori da questa epidemia che anno dopo anno si ripete. Le mamme che per la prima volta accompagnano i propri bambini al nido o all'asilo si sentono assolutamente impotenti nei confronti di quella che sarà sicuramente una stagione lunghissima fatta di ha preso la febbre, è tornato a scuola, ha ripreso la febbre. Adesso siamo in compagnia del dottor Tommaso Montini, pediatra che noi ringraziamo per il suo tempo, col quale vogliamo parlare di quella che più o meno scherzosamente oramai si definisce asilite. Asilite, rassegniamoci, 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 ci ammaleremo tutti, il raffreddore e la tosse inizierà adesso e verso maggio-giugno forse passerà, quindi meglio stare tranquilli. Perché ci ammaliamo? Perché i bambini si ammalano? Si ammalano perché mettiamo in una classe tanti bambini, molti sono raffreddati, sono in un periodo in cui è frequente ed è anche normale che si raffreddino e si ammalino a raffreddare, una brutta parola, cioè che prendano queste infezioni delle alte vie respiratorie, naturalmente stando insieme in un ambiente ristretto si mischiano, si passa un'infezione sull'altra e quindi naturalmente poiché in una classe abbiamo tutti i giorni almeno 4-5 bambini che tra naso che cola, tosse e ossegene sono infettivi, è normale che avremo infezioni per i nostri piccolini, i nostri figli, i nostri bambini. Dottore Montini, lei ha detto che la parola raffreddare, raffreddarsi è una brutta parola, immagino che colpo d'aria sia proprio una parolaccia. È un incubo, io sono cresciuto con l'incubo del colpo d'aria, la mia mamma era bravissima, proprio molto brava per evitare i colpi d'aria, ero il bambino con il cappellino, con i copriorecchie, con la sciarpetta, la maglia di lana, avevo tutte queste attenzioni perché ero sempre malato appunto. E allora quando sono cresciuto un pochino e quando ho iniziato a studiare un po' queste cosette come lavoro, questo discorso del colpo d'aria ho voluto approfondirlo davvero, ho voluto capire ma che fa un colpo d'aria? E con grande sorpresa ho scoperto che il colpo d'aria, cioè il vento, diluisce i germi e quindi ci ammaliamo molto meno nel colpo d'aria e allora chiaramente la mia mamma dice, va bene ma se non è il colpo d'aria ma è prende freddo e allora che facciamo? E allora sono andato a cercarmi anche il prende freddo, il colpo di freddo. In effetti anche su questo le cose si sono molto ridimensionate perché in effetti parliamo di infezioni, parliamo di contiguità, di rapporti, parliamo di animali, diciamoli così, che da una persona vanno ad un'altra persona. Si sopravvive o si muore in base a due elementi, la cattiveria dell'animale diciamo e la cattiveria del nostro sistema immunitario che per grazie di Dio è molto più cattivo, infatti si difende molto bene e diciamo i veri problemi non li abbiamo quasi mai. Quindi ridimensioniamo la paura del colpo d'aria, che è una storia un po' del passato e invece sottolineiamo quelli che sono i veri elementi di rischio, cioè il fumo di sigaretta, l'inquinamento, il luogo ristretto, affollato, chiuso. Questo è importante, c'è un posto chiuso dove c'è poco ricambio d'aria, dove qualcuno tossisce e qualcuno fuma e un posto dove probabilmente il bambino si ammalerà molto di più. Il nostro sistema immunitario, ha detto lei, è abbastanza cattivo da poter bloccare eventualmente l'influenza, ma è abbastanza cattivo da rendere inutile un vaccino anti-influenzale oppure il vaccino anti-influenzale ha il suo perché? La risposta è assolutamente no, domanda tendenziosa. Allora, vaccino anti-influenzale, lo facciamo ai bambini? Ogni anno esce, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, moriremo tutti perché verrà l'influenza. Naturalmente abbiamo sperimentato che non moriamo tutti quanti, tutto sommato l'influenza è anche una malattia banale e quindi è sbagliato, finalmente l'abbiamo capito, terrorizzare la gente e dire moriremo perché viene l'influenza. Però l'influenza sa essere cattiva e si può anche morire per l'influenza. Non muoiono i nostri bambini, non muoiono i nostri bambini con la febbre a 39 o le persone della nostra famiglia, ma i nostri anziani rischiano di morire, le persone veramente malate, croniche rischiano di morire, i piccoli rischiano. E allora è giusto fare la vaccinazione? Certamente sì. Perché? Perché l'influenza è la malattia più infettiva che conosco, la più infettiva. Quando inizia l'influenza la prendiamo tutti. Inutile illudersi, no però a me non capita, capita. Se abbiamo un contagio, un contatto con una persona che ha l'influenza la prendiamo. Per questo motivo io li vaccino ogni anno. Il problema qual è? È che le campagne vaccinali sono tutte mirate agli anziani e ai bambini. E in mezzo? E in mezzo il problema è che gli anziani e i bambini piccoli rispondono peggio al vaccino. Cioè non è detto che facciano gli anticorpi che realmente proteggono. E allora stiamo facendo un intervento inutile? Lo facciamo anche lo stesso, facciamolo. Ma il messaggio forte che deve girare è che se vogliamo realmente proteggere gli anziani che sono più fragili, dobbiamo vaccinare i bambini perché sono loro che fanno camminare l'epidemia. Cioè l'epidemia si rafforza, si potenzia nelle scuole, negli asili, negli autobus dove ci sono luoghi affollati. Chiaramente i bambini che per una loro immaturità del sistema immunitario si ammanno più facilmente, prendono più facilmente anche l'influenza e allora dai nostri bambini arriva ai nostri nonni. E allora il consiglio qual è? Vacciniamo tutti, tutti. Cioè per proteggere un bambino conviene vaccinare tutta la sua famiglia, per proteggere un nonno conviene vaccinare tutta la sua famiglia. Lo facciamo anche ai bambini, sappiamo che sotto i tre anni la risposta non sarà eccezionale, ma facciamola. Cioè i rischi sono veramente pochi. La domanda tendenziosa dovrebbe essere allora perché non la facciamo a tutti, gratuitamente a tutti? Risposta costa, costa, costa troppo farla a tutti per una malattia che tutto sommato è banale. Allora il messaggio qual è? Nessun terrore dell'influenza, non moriremo, non succederà niente, ma vacciniamoci perché dobbiamo farlo per proteggere i nostri nonni e tutte le persone fragili che invece con la nostra influenza banale possono morire. Siamo oramai in chiusura. Mi sembra di sentire le mamme di cui parlavo all'inizio della nostra trasmissione, quelle che dovranno accompagnare, stanno già accompagnando o li dovranno accompagnare i propri figli all'asilo. Che facciamo? Lo demonizziamo questo asilo oppure no? Li vacciniamo fermo restando che al di sotto dei tre anni ci è sembrato di capire che la risposta è un po' diversa? Allora il messaggio qual è? Il bambino si ammala. È una brutta cosa che si ammala? La risposta è no. Perché? Perché ogni malattia è un potentissimo simulante del sistema immunitario. Cioè le malattie servono, sono una cosa buona, non sono una cosa cattiva. Quando la mamma viene al mio studio e mi dice, dottore guardiamo la gola perché è rossa, io lo so che è rossa. C'è chi mi ha guardo a fare, lo so, certo la guardo. Ma quando trovo che l'infezione si è fermata in gola, la risposta dovrebbe essere, brava, complimenti, questo bambino funziona benissimo, è andato tutto bene. Perché? Perché quella gola che non è una debolezza ma una forza, ha impedito a quell'animale, usiamo sempre questo termine un po' improprio, di penetrare molto più profondamente. La gola è un muro, è una barriera. Se il bambino prende sempre mal di gola, vuol dire che si difende benissimo. E quindi è uno stimolo, quello dell'infezione ricorrente che è capitata, che lo renderà molto più forte. Dopo tante malattie, tanti anticorpi che avrà fatto, si ammalerà meno. Guardi, io sto ridendo perché lei sta ribaltando tutte le mie credenze, forse anche le vostre, secondo le quali se il mio figlio si ammala sempre col mal di gola anziché essere forte è debole. Dunque è molto forte perché non gli viene mai la polmonite se si ammala sempre di mal di gola. Non è una debolezza. È chiaro che ci sono le tonsilliti diverse, è vero, non vogliamo generalizzare, ma come discorso generale è bene non percepire la malattia intercorrente, cioè il catarro, diamogli il nome che conosciamo noi, come un brutto evento che vuole danneggiare un nostro bambino. La natura l'ha pensato. È normale, viene e tanti catarri rinforzano. Siamo proprio in chiusura. Allora, tralasciando un momento il discorso vaccino abbiamo fatto o non abbiamo fatto, ma come si fa a prevenire l'influenza? Lo si può fare? Ah certo, si fa così. A rivederci da Aereoporto Internazionale di Napoli. Carpisa. Yamamai.